ariete sta per iniziare un periodo entusiasmante per voi e dovrete essere pronti a sfruttare tutte le opportunità che vi verranno offerte toro sarete tentati di continuare a percorrere una strada che fino ad oggi sia dimostrata assai poco produttiva non fatevi influenzare negativamente dalla vostra paura del nuovo gemelli potreste non essere d'accordo con ciò che vi viene chiesto di fare oggi ma dovrete ammettere di non avere nessuna soluzione alternativa da proporre cancro potreste ricevere un aiuto inaspettato da un ignoto benefattore vorrete sapere di chi si tratta per esprimere la vostra gratitudine leone sta per iniziare per voi un periodo di prosperità non fatevi sfuggire un'opportunità per affrettarne l'arrivo vergine se mai vi troverete nei guai oggi potete contare sull'aiuto di molti amici ma non dovrete vergognarvi di esprimere le vostre difficoltà bilancia potreste fare amicizia con una persona che si dimostrerà molto utile e influente nei momenti di necessità non abbiate paura di parlare dei vostri sogni scorpione non perdetevi d'animo davanti ai piccoli imprevisti della vita oggi se riuscirete a superarli avrete già compiuto un grosso passo avanti sagittario non potete procedere senza un piano anche se non c'è bisogno che sia così dettagliato da definire le vostre attività minuto per minuto potete improvvisare qualcosa capricorno è assai probabile che la vostra situazione a caso al lavoro migliori rapidamente oggi però dovrete essere molto diligenti acquario le prospettive vanno migliorando è ora di prendere in considerazione un cambiamento che nel prossimo futuro potrebbe rivelarsi molto redditizio pesci un piccolo vento potrebbe avere conseguenze incredibili oggi cercate di capire come ogni cosa ne sarà influenzata